Ti è stato consigliato Blu de Chanel, sei arrivato in profumeria tutto pieno di entusiasmo per questo acquisto consigliato. Poi arrivi lì e ne trovi tre e dici che faccio? Oggi facciamo una guida che ti spiega tutte e tre le versioni. I poteri forti hanno provato a fermarci, ma non questa volta. Profumi, sarcasmo, canale tecnico. Gna gna bilità. Ciao ragazzi e bentornati su Adoriamola con Mirko, l'unico canale in Italia che parla di fragranze maschili dal punto di vista dell'opinione femminile. In realtà parlo di tutto, anche di fragranze femminili. L'importante è che siano seducenti, cioè nel senso, oppure che non lo sono, io poi te lo dico se sono seducenti o no. Quindi il concetto di gna gna bilità che prende piede. E se ti interessa un argomento di questo tipo, a questo punto iscriviti. Non è che poi devi pagare per l'iscrizione. Nel frattempo tu usufruisci di un servizio di consulenza completamente gratuito. E ti sembra giusto, tu ricevi qualche cosa e non ricevo nemmeno l'iscrizione, nemmeno il like. Hai uno stage di otto mesi pagato a 400 euro. E la gente è contenta. Perché un profumo si chiama Blu de Chanel e non c'ha nulla di blu? Né nell'odore, né nel flacone, non è blu, né nella scritta, né in niente. Quindi creiamo uno storytelling apposta, inventato su queste fragranze, che mi fanno dire a sto punto, magari un apprezzatore... Come la chiamiamo? Blu. Un'altra ha capito, Blu, gliel'ho messo. Altrimenti non si spiega completamente. Forse Blu perché l'eleganza, Blu. Blu. E' come quelle cose tipo, ah, gli spaghetti al nero di seppia. E seppia chi è, scusate? Ah, seppia dici il mollusco? No, perché altrimenti sarebbe spaghetti col nero della seppia. Perché la seppia e le seppie, no? Il seppia. Che cos'è? Ho evidentemente un soprannome. Tipo il bombolo, il grullo, per dire. The Toilette di Blu de Chanel. Questa versione è molto testi, come direbbero gli inglesi. Quindi agrumata, frizzante, mantiene sempre un tono molto elegante. Fraganza ufficio, molto elegante. Note legnose. Non è la più legnosa dalle tre versioni, ma sicuramente è legnosa, agrumata. Sempre molto elegante. Qualsiasi fascia d'età, molto businessman. Poco consigliata per ragazzini. Insomma, che vanno ancora a scuola, a università. Non mi sembra adatta. A meno che non siete il classico figlio di papà principino. Per dire. Chi è che è il classico figlio di papà principino? Qualcuno c'è, qualcuno c'è. Bene. Questa versione sicuramente ti dà l'opportunità di spendere meno fra le tre. Ci sono diversi formati, 50, 100 ml, anche 75 ml e vari prodotti complementari. Io sinceramente la consiglio per tutti coloro che vogliono una prima fragranza di livello. La versione Eau de Parfum. Questa versione qua si differisce poco dalla prima. È inutile pensare, ok, abbiamo l'Eau de Parfum e quindi sarà più concentrato dell'Eau de Toilette. Questo è un errore che non dovete fare mai, ma che chi non è principiante sa che non va fatto. Cioè pensare automaticamente nel mondo del commerciale che siccome c'è scritto Eau de Toilette, poi l'Eau de Parfum sarà, diciamo, più forte, dura di più. È una stronzata. Questa è una strategia di mercato perché intanto prendi due tipi di pubblico. Se già sei affezionato a Blu de Chanel e non sai che non è così, automaticamente tenderai a pensare che quella è la versione più forte e la acquisterai. Mentre invece, chi sa che invece sono diverse, per curiosità va a vedere. Vediamo com'è la nuova versione di... Quindi in ogni caso hai venduto. Allora puntano sul fashion, mica sui profumi, ma questo vale per tutti i brand commerciali. In questo è veramente la nicchia un passo avanti. Cioè non fanno di solito più versioni della stessa cosa. Raro. Accade, ma è raro. Cosa cambia qui? Veramente poco. Qua veramente si potrebbe dire che forse è un attimino più... con una profondità meno frizzante rispetto al primo, ma è praticamente uguale. Ah, e il naso è Jacques Polge. Perché dico questo? Perché invece l'Eau de Parfum lo fa... Eh, scusate, il Parfum lo fa suo figlio, ovvero Olivier Polge. E voi dite, ah, vedi, uno è figlio di papà, profumiere e c'ha la raccomandazione. Uno solo deve guadagnare sul campo quel discorso lì. Poi che c'entra che ti danno l'incarico per fare la vie belle? Che c'entra? Chi non è mai capitato di avere il padre che ti fa fare Aventus? Magari uno ha un panificio e mentre fa il rimacinato di pane integrale ti fa un Aventus così, un accordo fruttatino, un accordo... Versione stupenda tra le tre, più matura, con molte più note legnose. Infatti si differisce molto, non so se si vede bene, perché questo telefono l'ho pagato un bel po', però non è che lo so usare più di da... La scritta qui è dorata, è anche sul tappo. In differenza delle due precedenti versioni che sono più... che sono grigie, silver, argentate. E hanno anche un odore più metallico, più argentato. Questo invece è più naturale, più legnoso. Abbiamo anche una nota alimenta che è veramente una nuanza appena accennata, quindi se non amate questa nota non preoccupatevi. Tutte e tre versioni consigliate e soprattutto tutte e tre versioni gnagnabili. Perché in questo canale ho creato un termine tecnico per definire se un profumo ha gnagnabilità oppure no. Fantastica versione questa qui. Quale preferisco io su me stesso? Devo dire che preferisco sia l'eau de toilette che l'eau de parfum. Bene, detto questo, ci salutiamo, ci vediamo al prossimo video. Iscrivetevi al canale e ricordatevi sempre che once you go blue, you never dici bu. I poteri forti hanno provato a fermarci, ma non questa volta. Profumi, sarcasmo, canale tecnico, possibiliti. Profumi, sarcasmo, canale tecnico, possibiliti. Gnagnabilità!